Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità della Cagliari. Il mercato delle trasferimenti è in pieno fermento, e la squadra di calcio dell'Isola, il Cagliari Calcio, è alla ricerca di rafforzare il proprio centrocampo per affrontare la sfida del campionato impegnativo della Serie A. Con l'obiettivo di offrire all'allenatore Claudio Ranieri una rosa completa e competitiva, la dirigenza Rosso Blu ha messo gli occhi su un talentuoso giocatore, Giulio Maggiore, attualmente in forza al Salernitana. Secondo le informazioni raccolte dal rinomato portale sportivo Tutto Salernitana, l'interesse del Cagliari per Giulio Maggiore è sempre più forte. I negoziati tra i club sono in corso, e entrambe le parti sperano di arrivare a un accordo che soddisfi gli interessi di tutti i coinvolti. Nella ricerca di soluzioni per la squadra, il Cagliari ha individuato in Giulio Maggiore un obiettivo promettente. Il giocatore di 25 anni ha avuto una prestazione notevole nella scorsa stagione, e il suo stile di gioco si adatta perfettamente alla strategia e alla tattica della squadra guidata da Claudio Ranieri. E voi tifosi, cosa ne pensate dell'eventuale contratto di Giulio Maggiore da parte del Cagliari? Lasciate la vostra opinione nei commenti, poiché è molto importante per il Cagliari.